e allora in attesa di andare in premiazione da Alessandro Gocciadoro mentre va il replay della retta d'arrivo lungo la quale la vincitrice dell'Iscius Gar si è allungata in maniera facile per respingere Dalia Dino e Doterra S in attesa di Alessandro Gocciadoro con questa portacolori di scuderia siciliana vediamo quadrata che arriva pian piano di passo dell'Iscius Gar figlia di Father Patrick e Naki Tast a sua volta quando era la corsa vincitrice del Gran Premio Italia quindi genealogia che non mente anche in questo caso con una targata Gar a vincere questa volta dopo la mamma targata stevanin vediamo nelle immagini ancora una volta il successo facile dell'Iscius Gar che dopo aver vinto le truri a filli si conferma in maniera netta agevole il numero in seconda fila non è stato affatto un problema dopo 400 metri ha sfondato mentre arrivano anche i proprietari in premiazione il successo facile della portacolori di Girolamo Casella che ha fatto davvero tutto facile facile allora vediamo se riusciamo intanto in attesa di Alessandro Gocciadoro a rubare due parole al coproprietario se ha voglia di dirci qualcosa allora il coproprietario qui con noi una cavalla fantastica direi dai dopo le truri anche l'Italia e poi tutto facile facile assolutamente sì oggi veramente tutto facile facile cavalla che fa sognare penso che non ci sia più altro da dire no? e allora ringraziamo Gianluca Morghese ovviamente intanto la cavalla sta arrivando in premiazione con tutto il team Alessandro Gocciadoro con tanto di bambino al seguito eccola qui che arriva la vincitrice 1.16.2 il raguaglio cronometrico tattico dopo essere andata al comando ha fermato una frazione addirittura in a 33 e mezzo che vuol dire andare praticamente a spasso poi la chiusa finale svelta per la vincitrice che sta arrivando in premiazione eccola qua una bella figlia di Father Patrick sicuramente genealogia favolosa la vediamo anche particolarmente bella nel fisico già rilassata dopo la fatica arriva in premiazione Delisius Gar ricordiamo che al secondo posto si è piazzata Dalia Dino a precedere Dotera S mentre al quarto posto ha corso bene anche Dynamite Bar a precedere Diva Indal queste sono le cinque che compongono il marcatore che sono andate a premio in questo Gran Premio Italia Fili ed eccola qua la vincitrice che arriva in tondino di premiazione Delisius Gar la accogliamo con un applauso la vincitrice che si posiziona per le foto di Rito con allenatore proprietario vediamo se Delisius un pochettino nervosa qua in fase di premiazione Il consigliere comunale Claudio Mazzanti consegna il trofeo opera del maestro Eugenio Lenzi al guidatore della cavalla vincitrice il vicepresidente di Ippogrupp Cesenate Michele Canali consegna al proprietario della cavalla vincitrice il trofeo opera del maestro Eugenio Lenzi il signor Cristian Dell'Aquila consegna il trofeo offerto da SNAPT al proprietario della cavalla vincitrice il dottor Mauro Gaddoni delegato ANACT consegna il trofeo offerto da ANACT all'allenatore della cavalla vincitrice sono presenti in premiazione gli ambassador Arcoveggio e una delegazione di giocatori e dirigenti di Unipolsai Fortitudo Bologna Baseball e ora le foto di Rito lasciamo andare la cavalla che si merita ora sicuramente un bel bagno e una coperta e allora aspettiamo Alessandro Gocciadoro il vincitore di questa corsa con rinnovato successo le telecamere sono lì per cui possiamo stare anche qua Alessandro questa è davvero una cavalla che fa sognare Sì, è già tanto tempo che ci fa sognare noi proseguiamo il programma la cavalla sta bene la pista piccola forse non è la sua miglior specialità perché è una cavalla molto grande ha un po' di meccanica sicuramente in pista da chilometro si esprime meglio sono riuscito comunque a sfondare li ho presi un po' in contropiede lei ha un parziale veramente veloce quindi poi tutto facile ha corso 300 metri ho secondato anche il cavallo che avevo all'esterno che mi chiedeva giustamente di far poca velocità e dopo la cavalla ha risposto bene ha chiuso forte era sempre bella tutto il percorso adesso penso che dopo questa bella vittoria andrà a fare qualche corsetta fuori Italia e poi tornerà a fine dell'estate Obiettivo dell'anno sono le Ox ma sai noi non è che abbiamo tanta paura fino a prima del derby farà sempre corsi con le femmine il derby mi sembra un po' presto adesso a dire quello che farà allora grazie ad Alessandro Gocciadoro un bel applauso al vincitore tanti complimenti Alessandro Gocciadoro Deliscius Gar posso congratularmi lasciandole un po' lo pensiero da parte della squadra con congratulazioni grazie a tutti